Gravissimo lutto nel mondo del cinema, si è spento 84 anni Pino Solanas, uno dei registi più famosi ed amati al mondo che ha fatto la storia. Era risultato positivo al Covid-19 a metà ottobre ed era ricoverato da alcune settimane in rianimazione, in condizioni che si sono aggravate negli ultimi giorni. È stato fondatore con Octavio Gettino e Fernando Vallejo del gruppo Sine Liberazione Argentino. Solanas ha diretto numerosi film, tra cui L'ora dei forni dedicato a Ernesto Cechevara, Tangos e Sur Miglior Regia a Cannes.